Incidente con feriti a Salerno da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che intorno alle 8 di questa mattina un'auto per svoltare in via Monticelli da via San Leonardo sia stata tamponata da un SUV provocando lo scontro contro un pullman della Sita. Per ricostruire la dinamica dei fatti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche due ambulanze del VOPI per trasportare i feriti. Due ragazzi hanno riportato varie scurazioni mentre una donna di 65 anni è stata portata in ospedale per un trauma all'arrachide cervicale, traffico intenso all'altezza della centrale del latte.